Ogni giorno Marche Multiservizi provvede a pulire la nostra città, ma dopo qualche ora la troviamo così. Tieni pulita anche tu, Pesaro. Vivere in una città pulita è più bello. Viviamo in un posto bellissimo e ogni giorno ci impegniamo per tenerlo pulito. Possiamo fare ancora meglio con la collaborazione di tutti. Se ognuno fa la sua parte la città sarà ancora più bella.